Il valore del mercato dell'intelligenza artificiale nell'industria alimentare mondiale raggiungerà i 43 miliardi di dollari entro il 2028, quintuplicando il valore di 8 miliardi raggiunto nel 2023. A stimarlo è una ricerca di PVC Italia, secondo cui è prevista una crescita di forza lavoro qualificata e specialisti, AI, che si traduce in nuove competenze per ottimizzare la produzione, la distribuzione e la sicurezza alimentare. Nel 2023 l'AI nel settore alimentare in Nord America ha raggiunto un valore di 3,5 miliardi di dollari, con una quota del 42% sul mercato globale che salirà al 43% nel 2028. La leadership di mercato nel Nord America è legata all'intensificazione dei controlli sulla sicurezza alimentare, all'introduzione di standard di qualità più elevati e all'adozione di nuovi modelli di business per l'automazione dei processi, soprattutto nella logistica. L'Europa, con una quota del 27%, si posiziona al secondo posto, trainata soprattutto da Germania e Francia, seguite da Italia, Spagna, Paesi Bassi e Svizzera. Guardando i segmenti della filiera agroalimentare, la logistica rappresenta il 34% del mercato delle AI, grazie all'uso dei sistemi avanzati per l'automazione che potenziano l'efficienza e la reattività dei magazzini, il miglioramento degli imballaggi, l'adozione di sistemi di ispezione visiva automatizzati. Il controllo qualità sarà il segmento trainante per l'innovazione dell'IA nel settore e raggiungerà un valore di mercato di 6 miliardi di dollari nel 2028.